La cooperativa di allevatrici sarde Anche il fotovoltaico Siamo la cooperativa al femminile più grande di Europa Io mi sento di fare un grandissimo Eia Che meraviglia Guarda un po' È gluten free? Sì Come si dice gluten free a Oristano? Kenze è glutine Kenze è glutine? Sì Di nuovo la Buono No Se lei dovesse aprire un conto corrente Lo farebbe per sostenere un'attività come quella di Pieranna? Ma certo che sì O darebbe i suoi soldi a una multinazionale delle patatine fritte? Ma mi passi un pasticcino Ma si prenda un pasticcino signora Roberta Banca etica L'interesse più alto È quello di tutti Grazie a tutti Grazie a tutti